Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovissimo glitch dei soldi veramente facile Talmente facile ragazzi che riuscirebbe a farlo mia nonna e vostra nonna ragazzi Quindi non incominciamo a dire no ma a me non mi riesco No so cazzate ragazzi questo lo sapete fare Per forza per fare questo glitch avete bisogno di due garage Del ceo ovviamente Io in questo caso sto usando il secondo e il terzo E un'auto in quella posizione che vi ho fatto vedere ragazzi O meglio la prima della lista del terzo garage Che sarà il garage che utilizzeremo per duplicare A questo punto ragazzi che cosa dobbiamo fare Invitiamo un amico in garage Questo glitch lo potete fare in sessione pubblica applicata Come cazzo lo fare a voi lo potete fare dove fare Volete entra al centro Allora una volta fatto questo ragazzi invitate il vostro amico in garage E quando il vostro amico sarà in garage Premerà la freccia giù e andrà su un personaggio della storia Rimanendo in questa schermata per tutto il tempo ragazzi Noi che cosa andremo a fare andremo a uscire dal garage ragazzi Quando noi andremo ad uscire dal garage il nostro amico diventerà invisibile Però ci sarà Quindi andiamo a vedere il resto del glitch Usciamo da questo piano ragazzi E andiamo nell'altro piano Nel piano in cui abbiamo le LG normali Quindi io in questo caso vado al secondo piano Che ho le LG normali Ricordate ragazzi Terzo piano Primo posto Dovete avere una LG retro custom E un amico bugato in garage Una volta fatto questo Andate nell'altro piano del garage Che ovviamente riempite di LG Se avete bisogno di fare molte duplicazioni Prendete una LG a caso Uscite dal garage Dal garage Sono diventato cinese Regate al garage E rientrate automaticamente Al garage Al terzo piano Qui dovete premere X Tante volte ragazzi A mitraglia Tante volte sul tasto E automaticamente Quando voi premete Vi sostituirà la prima auto Che era quella che stavamo guardando prima Con la LG con cui siamo entrati E ci sbatterà fuori A questo punto Noi che cosa dovremmo fare Dovremo comprare Una LG normale E andarla a sostituire Con la prima LG Che si trova al terzo piano Ragazzi Cioè quello in cui siamo appena entrati Una volta fatta la sostituzione Non ci resta che aspettare La consegna della LG Quando la LG sarà consegnata L'unica cosa che dovremmo fare È andare Allo Santos Custom Nell'officina Insomma Cambiare la targa E il gioco è fatto Ragazzi Per ripetere il glitch Stessa cosa ragazzi Andate nell'altro garage Prendete un'altra LG normale E rientrate in questo garage E fate la stessa identica cosa Che avete visto in questo video Quindi ragazzi Per una Per due Per tre Per quattro Sempre così Di fila Ditemi se Un glitch è più facile di questo Voi lo trovate Io non credo che esista Quindi spolliciate tanti like Condividete sto video E non mi rompete il cazzo Ragazzi Non funziona Non funziona Non funziona Ragazzi Un glitch come questo Non si trova più Quindi mi raccomando Fate sto glitch Approfittate Prima che Comunque Venga pacciato Perché non è che dura N'eternità E detto questo ragazzi Io vi lascio un saluto Vado nell'altro garage Giusto per farvi vedere Che la LG Z è duplicata Il video Durerebbe Sarebbe durato ancora molto Però l'ho tagliato Perché tanto Comunque Ci era poco da spiegare Visto che è così facile Il glitch Detto questo Lascio un saluto a tutti Like Condividete il video Aiutatemi a crescere E al prossimo glitch Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.